Ciao a tutti ragazzi, oggi porterò insieme a voi un nuovo gioco Candy Ink e praticamente dovremo costruire delle caramelle e lo scopriamo insieme. Vediamo, ripariamo questo posto insieme. Riposati nonno, mi occuperò io delle cose. Prima ripariamo la casa. Eccola qua, clicchiamo sulla casa e si dice che in due secondi verrà ricostruita. Voglio mettere un attimo le cuffiette, almeno non si sentirà il rumore esterno, mi sentirete meglio. Clicchiamo sulla casa e vediamo. Allora, scegliamo uno di questi stili. Teniamo solo questo posto posseduto, scusate. Fortunatamente possiamo cambiare tra stili ogni volta che vogliamo. Allora, questo per ora è in uso oppure questo che è posseduto. Io direi molto più carino questo in uso e quindi clicchiamo questo. Tocca un punto qualsiasi per chiudere. Ecco qua. La casa sembra incredibile ora. Qual è il prossimo? Vediamo cosa ci dice il nonno. questi sono i nostri depositi. Guarda, la dispensa ha un disperato bisogno di essere rinnovata. Clicchiamo e anche questa ce la dà per un soldino di requisiti. In due secondi abbiamo fatto anche questa. E anche qui abbiamo a disposizione da scegliere diversi stili. vediamo un po' con quale ci piace. Questo o questo. Io direi che rimaniamo sempre sulle tonalità belle colorate. Poi ci ha detto che possiamo cambiarli. Poi vedo che in basso potete vedere che a livello 10 ci bloccheremo un altro modellino. Quindi manteniamoci su questo stile. La dispensa conserva i nostri raccolti. Vabbè questo sappiamo che qui andranno conservati tutti i prodotti. Ora guarda le colture di di nonno sono pronte da raccogliere. Iniziamo a trascinare. Proviamo a raccogliere. Ah ecco dovevo prendere. Ecco qua. Abbiamo fatto il nostro primo raccolto. Poi vediamo un pochino. Allora dice la raccolta è stata fatta. Abbiamo bisogno di piantare più zucchero. Tocca sul campo per vedere ciò che abbiamo a disposizione. Per ora abbiamo solo lo zucchero diciamo la canna da zucchero. E qui abbiamo il tempo per fare le caramelle. Oh mamma c'è stato il gatto che mi ha stonato un attimo l'orecchio. Trascinare il candy della fabbrica building. Allora proviamo a fare così. Prendiamo la caramella la mettiamo qui e ci dice che in 58 secondi verrà fatta la prima caramella. Però mi dice di cliccare. Quindi clicchiamo per adesso e vediamo che questo diciamo inizialmente una sorta di tutorial più o meno per farci capire com'è il gioco. E così che il nonno invia i dolci ai clienti. Vediamo. Vediamo. Seguiamo un po' con le frecce. Ah vabbè questa è la classica bacheca dove noi dovremmo fare gli ordini e poi rivenderli. Ecco l'ordine del cliente preferito e inviamo. E ci dà un ex. Sarà esperienza. Ebbene già siamo saliti di livello e quindi abbiamo ottenuto due diamantini e la fabbrica di lecca a lecca. E quattro canne da zucchero. Torno ai campi e raccogliamo un'altra volta. Mi dimentico sempre di prendere l'attrezzo. Ecco qua. intanto vediamo. Ne abbiamo sugar. Bene. Andiamo e ricoltiviamo. Penso che più o meno il tutorial sia finito. No. Ah. Ciao piccolo blob. Carino. Chi sei? Vediamo chi è questo piccolo simbolico blob. Bob. Bob. Scusate. No. 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 Avevo letto bene. Blobby. Va bene. Puoi aiutare con la preparazione delle caramelle. Vediamo che ci dice. Cucu. Sta scritto. Carino. Devo metterlo qua? No. Lo devo dare a lui. Che succede? Forse sarà il cibo per lui. Clicchiamo sopra. Dice che ci ha dato questo fiore fatato che sarà un ottimo ingrediente per il lecca a lecca. Ma dove va? Ma dobbiamo costruire la fabbrica di lecca a lecca. Intanto le nostre coltivazioni stanno crescendo e cultura ci costerà 50 soldini. Ok. Dove lo vogliamo trascinare? Mi consiglia qui. E lo piazziamo qui. Dice finiamo la costruzione e poi partiamo con la produzione di lecca a lecca. Praticamente è, come ho capito, una sorta di fattoria, però produciamo caramelle. Ecco qua. New. Il fiore fatato ci permetterà di fare questo lecca a lecca in 4 minuti e 5 minuti perché sono 4,50. Però per ora, per accelerare questo, si dice in modo gratuito, proprio per andare avanti col tutorial e non aspettare i 5 minuti. Poi andiamo alla bacheca, come sempre, dove ci sono gli ordini. Vediamo, ci richiedevano proprio un lecca a lecca. Lo inviamo e guadagniamo dei soldini. Come ho capito, è un lama che fa le consegne. Abbiamo ottenuto una caramella. Abbiamo sbloccato la vaniglia e avuto altri due diamantini. E siamo saliti a livello 3. Io sposto il coso della registrazione, a meno così riuscirete a vedere i livelli dove stiamo. Aspettate, ora l'affianco, cerco di affiancarlo, poi magari lo piazzo meglio. Allora, il nonno ha preparato un'intera lista delle cose da fare. Controliamo cosa dobbiamo fare. Storia, tocco a qui per vedere l'elenco delle cose. E tocchiamo la storia. Allora, vediamo, possiamo già spuntare un'attività della nostra lista delle cose da fare. A ogni lista delle cose da fare ci verrà data una ricompensa, in questo caso a soldini. Poi man mano scopriremo se ci saranno altre ricompense o saranno sempre dei soldini. Ora ci dice, completa l'ordine in bacheca, ne dobbiamo completare un altro. E ci chiede ora due zuccheri che noi sempre abbiamo. Sì, è un lama che fa le consegne. Quindi, torniamo in bacheca, cioè nella storia, e abbiamo reclamato, abbiamo fatto tutte le missioni che aveva oggi da fare il nonno. E mi dice qua ricompense. Ho avuto un ex di ricompensa e due gemme. Io li chiamo diamantini, sono gemme. Benissimo. Ora, oddio, a volte dice in inglese, non sono molto molto brava. Vediamo, clicchiamo sopra alla storia e ci dice, ecco, sblocca l'aria dolce prato, ottieni calderone, inizia la produzione di caramello. Quindi queste sono le tre fasi, le tre missioni da fare. Torniamo indietro. Anzi, no, ci dice di cliccare qui e quindi questo voleva dire che dobbiamo sbloccare questo in modo gratuito. Io non so se poi le altre sezioni verranno pagate, perché lo sto scoprendo insieme a voi in questo momento. Qua dobbiamo riparare il calderone. Ci chiede del legno. Clicchiamo sul legno e vediamo cosa ci dice. Bene, ho messo l'icona proprio sopra la scritta. Dice che la lente, se noi clicchiamo sulla lente, ci porterà proprio dove dobbiamo fare la missione, le cose da fare. Allora, la lente ci dice praticamente che cliccandoci sopra ci porta proprio sulla missione da fare. Clicchiamo e vediamo. Allora, tocchiamo l'albero e 5 di energia. Ah, questo va pure in base all'energia. Grazie, l'avevo capito. Quindi è tipo Family Island. Che sinceramente ho tolto dopo un po' di tempo perché, vi devo dire la verità, l'energia non si recuperava praticamente mai. E quindi arrivava a dei punti dove il gioco era veramente talmente morto perché o acquistavi con soldi veri altra energia o dovevi aspettare proprio un'infinità di tempo per poter poi proseguire col gioco. In questo caso avete visto ci dice per accelerare avrei dovuto spendere due gemme che io in questo caso non ho fatto e lascio partire il calderone da solo. Ci dice di andare nella storia e reclamare tutti i soldini che ci vuole dare. Abbiamo fatto tutte le missioni giornaliere e quindi ci dà in questo caso due di esperienza e due gemme. Ok, allora, se la ragazza si ferma perché non mi ricordo manco più come si chiama, mi sembra di non averlo letto proprio. Prova a gestire da sola. Eh, vabbè, ok. De ora che sei da sola continua con la storia. Vabbè, ci dice che ormai questa sorta di mini tutorial è stato fatto e quindi possiamo gestire da sola, da sole, le attività che ci vengono richieste. Completa l'ordine della bacheca degli ordini, elimina eventuali detriti che poi penso ci darà delle ricompense. E come ricompensa, ecco, in questo caso ci darà sia l'esperienza che un'altra zolletta di terreno per poter coltivare. Io per ora esco e vediamo di fare sia la prima bacheca, poi raccogliamo di nuovo lo zucchero, ne mettiamo a fare ancora e vorrei mettere a fare anche un po' di vaniglia. La vaniglia ci costa un soldino e per giunta ci vogliono tre minuti per crescere. Vedi là ma quanto è carino, voglio ingrandire per farvelo vedere, guardate che carino, veramente carino. La grafica di questo gioco per adesso è molto molto carina, però quello che io voglio capire è un poco la situa dell'energia e un po' tutto il resto per vedere se è un gioco che va fluido o occorre come in altri casi molto tempo per riprendersi per queste energie e soprattutto se richiede una spesa eccessiva a livello economico o altro. Quindi diciamo lo stiamo un po' testando insieme. Mi ispirava dalla grafica e ho detto beh lo voglio provare. Un'altra cosa che vi voglio dire, se vi fa piacere che porti altri video di questo genere sul canale oppure volete proprio altri video su questo gioco, basta che mi lasciate un messaggino nei commenti e io li porterò molto volentieri. Un'altra cosa che voglio vedere, se mi dà il nome della ragazza, no. Mi dice in questo caso cliccando sull'immagine le ricompense del livello 4 e quindi il livello successivo. Due caramelle, due paperelle e due gemme. Comunque in negozio abbiamo nella cantina una caramella e nella dispensa 15 di zucchero e 4 di vaniglia. Beh, io più o meno penso che questo sia quello che tratta il gioco e direi per adesso prendiamo reclama che era questo, il calderone e quindi ne mettiamo a fare un altro di caramello altri due in questo caso. Vediamo se voglio sbloccare. Ah, devo spendere 20 gemme, quindi in questo caso non voglio sbloccare. Ci manteniamo, diciamo, sulla base del gioco per vedere un po' come si svolge e soprattutto se è fluido e ci permette di giocare senza fare acquisti. Intanto io pianto un'altra volta le coltivazioni, così parlo e... Perdo tempo, no, però a parte di scherzi, abbiamo visto un poco la grafica all'inizio del gioco e direi di fermarci qui come primo video. E fatemi sapere se vi piace, se siete contenti, se porto altri video del genere e soprattutto se porto altri video su questo canale proprio riguardante questo gioco. Per oggi vi saluto, un bacio a tutti, ciao!